Il popolo è grande ma perché è bergamasco, è bergamasco, punto e a capo, il popolo! Il popolo è grande ma perché è 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 la città che vuole questo. Perché senza la sua gente l'Atalanta non può esistere, non può esistere e questo qua ha fatto la storia di una partita e di tre campionati vinti. Aldo Cantaruti! Aldo Cantaruti! Aldo Cantaruti! Aldo Cantaruti! Aldo Cantaruti! E divina l'Italia e portaci in Europa, cosa che lì ne tocca, è fermo! un applauso ancora a Beppi Casari vai vai con Cina vieni Cina oh buona Cina buona Cina buona Cina buona Cina buona Cina buona Cina ma anch'io vi ringrazio vi conosco ormai perché credo da ragazzino sono passato da ragazzino giocatore e adesso spero sto iniziando ad allenare quindi sempre l'Atalanta e per me credo che sia motivo d'orgoglio vi ringrazio perché siete sempre numerosi partecipate a scopi benefici e credo che sia sempre bello per le persone che sono difficoltà e niente vi ringrazio il boccia mi fa sempre una cattiva pubblicità però vabbè vi saluto e vi ringrazio e ciubi e ciubi e ciubi l'arriata raga alla targa una prasa a Cina raga fatti con lui in campo bellissimo alto cantaruti alto gol alto gol alto gol alto alto gol alto alto gol vai ciubi premiato gol 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 alto gol alto gol Grazie, grazie veramente di cuore che gli anni passano, sono passati vent'anni e mi sembra che ancora siamo qua insieme e il tempo non sia mai passato. E' merito vostro che vi fate sentire tutto questo, tutto questo calore che purtroppo mai, quando non si fa il calciatore non è più eh. Però queste manifestazioni, questa solidarietà che voi date effettivamente va oltre e fa sentire sempre che il tempo non sia mai finito. Il punto fermo, ribalta, sa ribalta, ribalta, perché... Grazie a tutti, niente, grazie per questa bellissima festa che sto organizzando. Un evento che, insomma, io mi godo appieno perché non capita, non capita spesso di essere in una piatta, in una quadra, che i tifosi, insomma, sono così calorosi. Per cui io me la godo e vi faccio tanti complimenti. Su le mani, sulle 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 mani. Viene l'Urche Pededile, ringraziate da Carazzecche che ogni domenica l'aga segue, grazie a tutti. Viene l'Urche Pededile, ringraziate da Carazzecche che ogni domenica l'aga segue, grazie a tutti. Viene l'Urche Pededile, ringraziate da Carazzecche che ogni domenica l'aga segue. Premiato per una targa dal mitico Napolò Zubi. Grazie. 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 Tutto questo qua esiste, il calcio d'Italia esiste, l'Atalanta esiste perché ci siete voi. Fino a quando voi avrete questa passione, questo amore per l'Atalanta, sicuramente avremo un grande vantaggio rispetto magari ad altri. Avremo sempre il vostro apporto e questi ragazzi che oggi, essendo sul campo, riusciranno sempre a dare il meglio. Perciò io credo che questo qua qualcuno ne deve tenere presente. Ciao. Ciao.